Siracusa screening sanitario di primavera, prevenzione e promozione nelle piazze con Lions e l'ASP. Domenica 24, l'ASP di Siracusa partecipa a Lions Day, giornata mondiale del Lions Club International, dedicata grazie al protocollo d'intesa con l'assessorato regionale della salute, anche agli screening sanitario di primavera per la prevenzione e la promozione della salute. Durante la manifestazione sarà distribuito materiale informativo, fornite informazioni sull'alimentazione e sui corretti stili di vita, sulla prevenzione di alcune patologie neoplastiche. Si potranno eseguire screening del diabete, della vista e dell'udito e si potranno prenotare mammografie per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, PAP test e HPV DNA test per la prevenzione del tumore del collo dell'utero. Si raccusa, si potranno anche eseguire su prenotazione mammografia il centro screening mammografico dell'ospedale Rizza. A Palazzola Augusta e Lentini il personale del centro gestionale screening dell'azienda sanitaria consegnerà i kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. In provincia di Siracusa lo screening sanitario di primavera si svolgerà nei seguenti comuni dalle 9.30 alle 12.30 a Siracusa, Piazza Santa Lucia, Augusta, Piazza Unità d'Italia, Florida, Piazza del Popolo, Lentini, Piazza Duomo, Palazzola Crede, Piazza del Popolo, Priolo, Aria Mercatale, Marina di Priolo. A presto! A presto! Grazie a tutti